Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale MarioTedo, quindicesimo anniversario di Minecraft. Per l'occasione Minecraft vi regala una mappa speciale per i suoi 15 anni. Ma non è una semplice mappa, ma è una mappa stile museo con tantissime sorprese e minigiochi al suo interno. Ma andiamo a vedere prima di tutto come installarla. Andiamo nella sezione Minecraft per Windows. Andiamo a selezionare la mappa e ottieni questo oggetto. Vi chiederà di aprirlo direttamente su Minecraft e facciamo Apri Minecraft. Anzi, spuntiamo anche la casella. Qui, naturalmente, andiamo ad acquistarlo gratis. Procediamo al download della mappa. Questa mappa vi permetterà di fare un viaggio in questi 15 anni di Minecraft. Quindi facciamo Crea e iniziamo la nostra avventura. Eccoci qui, ragazzi. Il museo Minecraft 15 anni. Ok ragazzi, vediamo un pochettino. Ah, qui c'è la possibilità di fare la recensione. Il pappagallo classico di Minecraft. Andiamo ad entrare in questo museo. Ah, qui fanno le fotografie. Ho sentito anche la strega. Ok ragazzi, entriamo. Si aprono le porte. E via i festeggiamenti. Un libro. Una mega torta. Buon compleanno Minecraft. Ed eccoci qui all'interno della mappa. Ok, abbiamo questo libro. dove dobbiamo raccogliere alcuni oggetti. Ok, ok, ok. Come vedete abbiamo la torta centrale e poi tutto intorno ci sono diversi mondi. Ognuno naturalmente con sorprese e minigiochi. Vediamoli velocemente tutti. Partiamo dall'acquario. Eccoci qui ragazzi, qui all'interno dell'acquario. Abbiamo la fotocamera per fotografare le tartarughe, i pesci, i delfini, tutto ciò che naturalmente ci richiede il libro. Infatti andremo a collezionare questi sticker. Andiamo a vedere le altre stanze velocemente. Stanza successiva. Ah, qui ci sono i panda. Ho saputo anche rivedervi? Sì. Quello. No. la mente ambientazioni spettacolari ragazzi è veramente stupende ognuna di queste naturalmente si il bioma del deserto ognuna di queste ci riserva mini giochi proseguiamo il nostro percorso all'esplorazione attenzione regali attenzione voi alle torte invece terzo terza stanza che sono avete un po più pericolosa e attenzione fare il proprio museo ragazzi dai guardate guardate spettacolare veramente tutto molto bello proseguiamo con la prossima stanza le vediamo velocemente tutte vi lascio a voi naturalmente il divertimento di giocarle andiamo dall'altro lato della torta qui abbiamo le api e tutta la loro ambientazione particolare proseguiamo allora dobbiamo andare da quest'altro lato questa pure è una stanza tutta da scoprire ragazzi proseguiamo il nostro cammino verso l'esplorazione e poi vi saluto e vi auguro naturalmente un buon divertimento con tutti questi giochi minecraft questa è l'ultima esplorazione che faremo in questo video poi vi ripeto sta a voi il divertimento ok ragazzi io vi saluto per questo episodio per questa presentazione della mappa per i 15 anni di minecraft e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti